Dunque, io vorrei cogliere l'occasione per la traduzione di questo passo tratto da Lamaziano nel suo reddito suo per cercare di valutare anche sotto un profilo didattico e di metodo come dovrebbe essere affrontata una traduzione da latino. Secondo, queste due riflessioni riguardano due momenti ben precisi. Uno, che è quello di oggi, che dovrebbe riflettere sulla capacità di portare avanti un'azione interdisciplinare tra le varie materie. La seconda, invece, che riguarderà le silve di Stazio, farà riferimento al modo di affrontare una ricerca ad un livello già alto. Cominciamo con Rutilio Lamaziano, che vive di Rutilio Lamaziano, per quel che ne sappiamo, non conosciamo né la data di nascita né la data di morte. Sappiamo che questo suo viaggio si situa su per giù nel 1414, no, scusate, nel 1414-15, che aveva ricoperto delle cariche importanti a Roma, che era originario della Gallia, che è l'ultimo poeta pagano. Ora, chi mi ha richiesto la traduzione di questo passo, mi dice anche che è un passo noioso. Vedete, dipende da come si affronta una traduzione latina. E io qui non voglio essere maestro, come dirò poi, e vi farò vedere quali sono i limiti, maestro di lettere antiche, perché non lo sono. Va bene, ho insegnato 15 anni al liceo latino, ma non sono né mi ritengo maestro di lettere antiche, io vorrei essere maestro di metodo di didattica. Il metodo che viene dimenticato costantemente in ogni settore della nostra società e si continua ad inventare, ad improvvisare, con dei risultati catastrofici, a tutti i livelli. Ma in modo particolare io vorrei parlare di metodo, di didattica, di interventi pedagogici che possono in qualche modo arricchire un alunno in una prospettiva scolastica. Ora, se noi, questa è una premessa, poi andiamo alla traduzione, se noi ci rimettiamo semplicemente a tradurre questo passo, è chiaro che la cosa diventa noiosa. Direi addirittura insopportabile. E questa è la ragione per cui latino è tollerato a stento. Ma perché non sia un'azione interdisciplinare? Con le nuove riforme della scuola si è insistito, ma tutte queste azioni interdisciplinari sono solamente formali, messe sulla carta e vengono rese ancora più difficili dal fatto che le materie vengono spezzettate tra vari insegnanti. Io faccio l'esempio, l'ultimo anno che ebbe ad insegnare al liceo, io ebbe un preside talmente intelligente, talmente furbo, che in una classe per insegnare italiano, storie e latino, mise un insegnante di italiano, uno di storia e uno di latino. Per cui diventa difficile il collegamento delle varie materie. Diventa difficile. E non mi si venga a dire che si può in qualche modo incontrarsi precedentemente e programmare. Perché alla maniera di Hegel, di Fichte, di Schelling, di Gentile, di Croce, noi sappiamo che il nostro spirito è uno spirito libero. E quindi le occasioni si presentano da un momento all'altro. Non si possono, si può definire una linea, linea conduttrice, ma poi le occasioni vengono da un momento all'altro. Quindi facendo latino, come in questo caso, parlando di Dutilio e Namaziano, ci sono delle componenti che sono meravigliose se se ne prende la coscienza. C'è la componente storica, la componente filosofica, la componente teologica, la componente religiosa, la componente letteraria, la componente, volendo addirittura, psicologica. Allora, se un insegnante, e un insegnante di lettera e filosofia dovrebbe averle queste conoscenze, italiano, latino, storia e filosofia, e con filosofia dovrebbe anche conoscere la teologia. Ai miei tempi veniva introdotta anche la capacità di insegnare, cioè l'aspetto pedagogico e psicologico. Allora, se le cose vengono collegate, si ha una rivelazione che è meravigliosa. E questo Dutilio e Namaziano, allora, non viene utilizzato dai laicisti per criticare la ragione cristiana, ma si scopre la sofferenza di un uomo, una sofferenza strettamente umana, per qualcosa che sta crollando. E cos'è che sta crollando? Sta crollando la civiltà di Roma dopo mille anni. Nel 753 abbiamo la data più o meno esatta della fondazione di Roma. Siamo nel 400. 410 i goti di Alarico arrivano a Roma e la mettono a ferro e fuoco. C'è un imperatore onorio, figlio di Teodosio, completamente incapace. C'è tutto un movimento pagano che vorrebbe recuperare il paganesimo perché vede nel paganesimo la garanzia di una tradizione che, secondo questa gente, è stata minata, tra le altre cose, non soltanto dalla corruzione, ma dalla religione cristiana che è troppo arrendevole, è troppo risposta ad accettare, a perdonare. ed ecco che riusciamo a capire anche in questa prospettiva il giudizio di Namaziano a proposito dei modici dell'isola di Capraia. Allora, proviamo a tradurre. Tutte queste cose vengono fuori e si scopre un personaggio sofferente e una crisi che è epocale. «Velocem potius reditum mirabere lector tam cito romuleis pos carere bonis». Dunque, mirabere, attenzione, miraris, mi è dato su mirari, è una apocope, sta per miraberis e miraberis è un futuro, seconda persona singolare. quindi, «O lettore, ti meraviglierai potius reditum velocem del mio ritorno veloce». Attenzione che Miro regge l'accusativo. Poi c'è una variazio perché miraberis regge allo stesso tempo un complemento oggetto, un accusativo, reditum velocem, ma allo stesso tempo regge un'infinitiva che io possa tam cito tanto presto fare a meno bonis romuleis dei beni di Romolo. Romolo per antonomasia è Roma. Romolo per antonomasia è tutta una civiltà millenaria. quindi apocope perché lo stesso verbo ha due regenze differenti, un complemento oggetto e un'infinitiva e antonomasia questo romuleis bonis. Allora, Namaziano abbandona quindi il suo ruolo a Roma di prefetto ma sembra che abbia occupato anche altri ruoli e deve ritornare a casa. la patria o meglio più che la patria è la terra natale perché la patria per Namaziano è Roma e tutta la sua civiltà. Però sono arrivati i mandali in Gallia hanno distrutto mezza Gallia e deve andare presso le sue terne terre paterne per vedere un momento un po' quali sono i danni subiti. quid longum est con sottointeso est toto Romam venerantibus evo che cosa? è lungo venerantibus è un partecipio presente sostantivato per coloro che venerano Roma evo toto per tutta la vita ci sono dei casi in cui il complemento di tempo continuato può essere tradotto anche in ablativo semplice ed è questa una domanda retorica vedete che qui abbiamo la principale adesso non ho parlato delle proposizioni le ho individuate con i colori quindi mai è lungo nulla che piace senza fine proposizione relativa o quantum et quotiens possum monerare beatos nasci felice qui meruero solo qui romanorum procerum generosa propago ingenitum cumulatur bis onore decus vedete che qui abbiamo una proposizione principale con un eo sottointeso facciamo che tradurla o quanto e quante volte posso definire beati coloro poi qui c'è un'anastrofe il pronome relativo dovrebbe essere all'inizio qui nasci felice meruero solo e meruere è una poco per di nuovo perché sta per meruero coloro che hanno avuto la fortuna hanno meritato nascore deponente di nascere in una terra felice poi continua coloro che propago generosa generosa stirpe dei grandi romani prossimo romanorum cumulant accrescono decus e neutro decus ingenitum anche qui è un'anastrofe il decoro natale onore urbis con l'onore della città cioè non soltanto si possono definire romani ma riescono a crescere il loro decoro vivendo proprio nella città di Roma definita madre e poi vedremo anche con quali altri termini viene definita ora non c'era soltanto namaziano che avesse questo pensiero pensate a ammiano marcellino però sono autori della provincia nella provincia c'è ancora il senso di quella onestà che era propria della tradizione ce n'era rimasta ancora quando arrivano a Roma rimangono esterefatti della corruzione eppure lo vedremo ancora credono credono fortemente che Roma possa in qualche modo ritrovare la sua grandezza d'altra parte Roma era riuscita a vincere là dove aveva dovuto affrontare le guerre latine dei sanniti con Taranto le guerre puniche perché non avrebbe dovuto rifarsi qualcuno dice è anacronistica questa celebrazione di Namaziano ma un corno fritto non hai capito niente non è anacronistica quest'uomo crede veramente valutando la storia che ci possa essere un recupero quello che non riesce a cogliere Namaziano è che la economia e la corruzione è tale e tanta che difficilmente come ci dirà poi la storia potrà in qualche modo salvare Roma ma ancora di più l'incapacità degli imperatori pensate che in questo momento abbiamo Onorio figlio del grande Teodosio eppure Teodosio pur essendo grande non è riuscito a educare proprio figlio né a dare un'alternativa al governo Onorio è un incapace quindi vedete l'aspetto storico ma anche l'aspetto psicologico della necessità da parte dell'uomo di avere dei punti di riferimento altrimenti entra in crisi oggi abbiamo una crisi religiosa familiare statale allora c'era un altro tipo di crisi c'era una civiltà che stava per essere messa in ginocchio dalle invasioni barbariche e namaziano non si vuole dare per vinto non è anacronistico è una reazione umana se noi riusciamo a cogliere queste cose cogliamo anche il messaggio di una esperienza che è millenaria e su questo poi ci ritorniamo ancora perché dovete avere pazienza ma questa lezione sarà piuttosto lunga semina virtutum demisse tradita cielo non potuere aligis dignus esse locis allora il semi di virtù semina caduti e trasmessi dal cielo non potuere qui c'è una sincope sta per potuerunt e sarebbe meglio utilizzare il condizionale perché molto spesso il latino usa l'indicativo al posto del condizionale italiano sarebbe meglio tradurre non avrebbero potuto non avrebbero potuto esse trovarsi più degnamente dignus è il comparativo di un avverbio in altri luoghi locus voi sapete che può trovarsi anche senza la in quando esprime un complemento di stato in luogo felices etiam qui prossima munera primi sortiti lazias obtinu eredomos qui c'è un forwerunt altrimenti non abbiamo la proposizione principale con un ei sottinteso ora lei è abbastanza naturale che venga sottinteso perché ei e qui si trovano nello stesso genere numero caso quindi il dimostrativo può essere sottointeso fuerount no furono anche felici coloro che obtinuerunt abitarono le case laziali cioè le case nel Lazio perché perché e lo spiega con il participio passato doni dunque sortiti sortiti stacconei scelti dunque vediamo un po' avendo in sorte che cosa doni più vicini primi sai primi molto vicini ai primi proximus sapete che è un superlativo irregolare vediamo adesso un ricordo del ruolo del senato religiosa patet peregrini curia laudi net putat externos quos decetes suos allora la curia venerabile patet si apre laudi peregrine alla lode alla gloria straniera e non ritiene estranei vedete quindi abbiamo una principale e una coordinata alla principale poi c'è un eos di nuovo sottinteso stesso genere numero a caso di quos più che più che naturale coloro che conviene che siano suoi cosa vuol dire questo vuol dire che l'azione di roma fu sempre un'azione aperta e accolse nella sua cultura tutte le altre culture le culture degli altri paesi su questo Namaziano entra in conflitto con il cristianesimo il cristianesimo che dopo essere stato perseguitato perché voi sapete i cristiani non volevano giurare fedeltà all'imperatore non volevano sacrificare al genio dell'imperatore eccetera eccetera diventano gli stessi cristiani persecutori non sempre ma spesso dei pagani vi ricordate tutta la controversia da parte di Ambrogio che non voleva più che si costruissero altari pagani a Roma perciò insiste Namaziano sul fatto che la cultura e l'apertura e l'apertura di Roma fu sempre universale e accolse sempre tutti l'importante che fossero degni di appartenere alla sua tradizione anche qui è una riflessione storica importante ordini che è passata che è passata nella prospettiva di Namaziano noi dobbiamo vedere nella prospettiva di Namaziano che scrive ma è pur sempre un'azione che dura nel presente quindi se vogliamo tradurre il passato dobbiamo tradurlo col presente col passato prossimo italiano che è indicazione passata che dura nel presente se no traduciamo col presente storico dunque fruora è un verbo che regge l'ablativo usufruiscono stiamo parlando delle genti che hanno fatto parte che sono entrate nell'impero romano dell'autorità di quest'ordine cioè del senato ed collegarum ed è colleghi ossia degli altri magistrati e abet partem genii e hanno parte del genio che venerano quel genio di Roma cioè il dio che guida ormai da secoli Roma quindi anche a queste popolazioni non hanno come un dio estraneo il genio di Roma ma lo venerano come essi stessi parte integrante genio è una prosopopea genio inteso proprio come dio quindi personificato quale per etereos mundani vertice success concilio sumi credimus sdei quindi questo quale qui c'è una costruzione un po' difficile continua con anche se abbiamo due punti continua con una subordinazione che dipende dalla proposizione precedente e qui abbiamo una comparativa quale un neutro che sta con concilium quindi che viene però ripetuto due volte e quindi in latino ce lo troviamo solo una volta qui quindi quale concilium io ho tradotto forza unificatrice dei summi del sommo dio attraverso access etereos gli assi eterei del vertice del mondo crediamo che ci sia questo genio viene definito questo potere unificatore del dio sommo che allo stesso tempo noi crediamo che sia il concilium cioè l'elemento unificatore di tutto il mondo attraverso attraverso queste immagini che diventano perifrasi attraverso come dice Namaziano gli assi eterei del suo vertice allora vediamo anche in questo la religiosità del mondo romano che critica il cristianesimo però che lo vede come una forza disgregatrice ma e rimane sebbene abbia vedete che c'è non si parla più di giove di venere o di altro ma c'è il credo che deriva da tutta una tradizione stoica c'è il credo di un dio di un dio eterno superiore che è la garanzia di questo genio ma è la garanzia e l'elemento unificatore del mondo come realtà fisica ecco allora anche qui quando qualcuno mi dice stupidamente tiriamo via la religione dalla scuola e io dico ma sei ignorante non sto parlando di catechismo sto parlando di religione qui bisogna bisognerebbe perché questo scritto non sia pesante o noioso valutare la sensibilità religiosa dei romani che ormai ha superato un po' quel conciliabolo di dei pagani che arrivava dal mondo greco e confermava già le credenze romane per concepire una realtà superiore una verità superiore che alimentatrice di questo genio è il genio di Roma ma è anche l'elemento unificatore di tutto l'universo e qui una visione io non posso tirarla più a lungo perché se no qui facciamo due ore di registrazione qui in una prospettiva scolastica bisognerebbe affrontare il discorso del logos nella prospettiva stoica perché Damanziano parla di elemento unificatore ed ecco che qui la filosofia ci viene in soccorso non basta non basta la traduzione traduzione serve a niente è una cosa sclerotica buttata a se stessa se non c'è tutto il commento attorno questo è uno scritto ricchissimo di agganci che ci rendono consapevoli cosa vuol dire rendere consapevoli vuol dire mettere in mettere a fuoco la nostra umanità e allora comprendiamo che il latino non è una cosa puramente meccanica perché io ho letto qui delle cose orribili quando il nostro ministro fioramonti ci dice parlando di coding perché poi invece di dire programmazione bisogna utilizzare il termine inglese per darsi più arie e conclude ma perché fa bene conoscere l'informatica e la programmazione come il latino a esercitare le nostre funzioni cerebrali allora c'è da chiedere a questi signori perché le avete tolto il latino ecco perché le nostre funzioni cerebrali e quelle dei ragazzi non sono più sviluppate le avete tolto però paragonare il coding o la programmazione al latino è assolutamente riduttivo è fare del latino semplicemente un gioco che potrebbe essere uno dei tanti presentati da settimane di mistica cioè la capacità di tradurre la capacità di mettere assieme delle regole dei blocchi come nel coding insieme delle regole dei blocchi e ma qui il latino ci dà qualche cosa altro il latino non si limita e non dovrebbe essere così a richiedere una traduzione ma a conoscere l'uomo e noi qui attraverso quest'opera di Emanziano conosciamo la storia e conosciamo la crisi di una civiltà la civiltà romana naturalmente bisogna fare i giusti collegamenti che mea dilettis fortuna revelitur oris indigenam quessun gallica lura vocant mea fortuna il mio destino revelitur è strappato a no sì oris reveli dilettis dalle coste amate att e ma e anche qui abbiamo delle anastrofi vedete dilettis staccato da oris rura gallica le terre della gallia vocant mi rivendicano rivendicano me c'è un me sottinteso sum indigenam come suo nativo indigenam guardate che può anche essere maschile perché questo che qui abbiamo sum al maschile non suam e sum indigenam è un complemento praticativo dell'oggetto più attributo illa quidem longins nimium deformias bellis sed quam grata minus tan miseranda magis allora illa quelle in vero c'è un sunt sottinteso altrimenti non avremmo nella principale nella coordinata della principale sono distrutte dalle guerre nimium longis troppo lunghe consapevolezza no di namaziano che uno degli errori più grandi di roma è la guerra civile sempre per raggiungere il la somma il sommo potere la guerra tra i vari generali e poi tutte le invasioni barbariche ma le due cose sono collegate nella misura in cui l'impero è debole ecco che non riesce neanche a fermare le invasioni ma devono essere parliamo delle di queste terre devastate devono essere commiserate tanto commiserate tanto commiserate di più quam grata minus quanto meno belle meno gradite non nel senso che siano terre strane ma meno gradite perché devastate e qui abbiamo una comparativa vedete quanti sono sottintesi altrimenti non avremmo neanche un verbo securos levius crimen contemne recives questo securos sta per securus è un errore securus secondo me si riferisce al soggetto e si riferirebbe secondo me a namaziano è una colpa levius direi che è un comparativo assoluto quindi non metto il più ma abbastanza o piuttosto grave contemne le cives disprezzare i cittadini io al sicuro io al sicuro privatam repetunt pubblica damna fidem damna pubblica le disgrazie pubbliche richiedono fidem privatam una particolare integrità una fiducia privata letteralmente presentes lacrimas tectis debemus avitis presenti dobbiamo lacrime ai tetti paterni qui c'è una metonimia tectis che vuol dire casa ma qui si intende patria e dobbiamo lacrime questa è una metafora ma dobbiamo addolorarci per i nostri i nostri i nostri i nostri tetti le nostre case la nostra patria in questo caso si riferisce alla gallia dove appunto l'amaziano ha ancora le proprietà paterne prodest admonitus sepe dolore labor la fatica admonitus suscitata dal dolore spesso prodest è di giovamento questo è un composto di sum nec fas ulterius longas nescire luinas quasmora suspense multiplicavit opis nec questo est è sottinteso e non è possibile non è ammissibile far cosa ignorare le eccessive rovine ulterius è di nuovo un comparativo assoluto troppo a lungo rovine che l'indugio di un aiuto mai arrivato sospeso ha moltiplicato se i barbari sono usciti vincitori e hanno dato tutti questi danni è perché si sperava nell'arrivo delle regioni romane ma queste regioni non sono mai arrivate occupate in altre guerre intestine i am tempus laceris post seve incendia fundis vel pastorale edificare casas cenuamente un est sottinteso è ormai tempo post seva incendia dopo i crudeli incendi fundis laceris contro i fondi straziati vel almeno costruire case di pastori qui ci sono l'incendia che vengono definiti furiosi e i fondi che vengono definiti straziati sono attributi che per lo più vengono predicati degli esseri umani quindi noi individuiamo qui la figura retorica dell'ipallage che attribuisce alle cose i sentimenti e gli attributi che dovrebbero essere proprio degli esseri umani i ip si quinn etsia fontes si mittere vocem ip saque si possa interbuta nostra loqui cessantem justis poter aturgere quereis e desideris addere vela meis quinn anzi ipsi fontes le stesse fonti anche le stesse fonti attenzione qui che abbiamo un periodo ipotetico un periodo ipotetico indipendente della irrealità infatti vedete che abbiamo un imperfetto congiuntivo se potessero emettere una voce e se potessero le stesse piante le stesse nostre piante loqui parlare quindi solo in coordinazione di nuovo l'anastrofe poi si va nella podosi dove troviamo un verbo all'indicativo invece di essere al congiuntivo questo può capitare nell'ipotetica delle realtà trovare imperfetto più che perfetto perfetto indicativo nell'apodosi ma noi lo traduciamo come se fossero come se fosse un imperfetto congiuntivo potrebbero potrebbero spingere urgere me che è sottinteso cessante che mi sto attardando justis querelis con giusti lamenti e aggiungere le vele ai miei desideri aggiungere le vele è chiaramente una metafora qui abbiamo un ablativo assoluto dove c'è l'axatis participe passato con complexibus lasciati o può essermi separato in ogni modo lasciati gli abbracci della cara città chiaramente anche questa non ho scritto ma è una metafora io non posso abbracciare la città vincimur ci arrendiamo e tolleramos affrontiamo con dolore astento con fatica iter serum il viaggio difficile il duro viaggio poi namaziano spiega perché ha organizzato una piccola flotta e viaggiando di costa in costa ha preferito l'acqua alla terra qui c'è un parallelismo è un est sottinteso terreno è di nuovo qui sottintesa è stato scelto il mare poiché plana terreno i terreni piani delle vie maden fluvis trasudono di acque qui si vede l'abbandono delle terre che un tempo erano tenute delle vie che un tempo erano sempre tenute in perfette condizioni mentre mentre l'ho aggiunto io i terreni alti region cautivus sono resi difficili dalle rocce per le rocce a causa delle rocce degli strapiombi dei burroni e qui abbiamo ancora la desolazione degli interventi e dalle devastazioni barbare posquam tuscus ager postanque aurelius ager perpessus getica sense vel in emanus non silvam domibus non flubina ponte coercet incerto satius credere vela mari allora dopo che l'agro toscano dopo che la via aureliana perpessus c'è un deponente con un est sottinteso e c'è una concordatio sensum perché vedete che abbiamo sia l'ager tuscus sia l'ager aurelius eppure uso il verbo al singolare uso al singolare perché altrimenti perpessus non sarebbe al singolare ha sopportato le bande gotiche con la spada e con il fuoco cosa succede dopo queste devastazioni proposizione principale questa questo agro questa strada e il soggetto è questo non coercet domibus silvas non costringe le selve con le case cioè i boschi sono avanzati e quello che è capitato poi a Roma che da un milione di abitanti si è ridotta nel giro di poco tempo a 50.000 per cui certe zone che erano cittadine addirittura cittadine in pieno centro vennero coperte dalle foreste quindi non costringe o costringono i boschi per mezzo delle case non costringono i fiumi con i ponti i ponti sono crollati e abbiamo visto che le strade sono allagate satius è un comparativo neutro mettiamo è meglio è meglio credere vela dare le vele al mare incerto chiaro che è una perifrasi perché si potrebbe dire semplicemente è meglio imbarcarsi e poi qui dare le vele potrebbe essere intesa una metafora ma fino a un certo punto potrebbe anche essere una metafora no? va bene allora andiamo avanti crebra reliquendis infigimus oscula portis allora infigimus crebra oscula offriamo frequenti baci reliquendis portis è un gerundivo dove portis è complemento oggetto lasciando i porti nel lasciare i porti voi vi ricordate che il gerundivo si traduce sempre con infinito trattando quando è l'ablativo nell'ablativo si può tradurre col gerundio italiano inviti superanta limina sacra pedes i nostri piedi contro voglia superano i sacri confini evidentemente di Roma oramus veniam lacrimis et laudelitamus in quanto un fletus curere verba siri attenzione che qui c'è un chiasmo predicato verbale e poi abbiamo lacrimis e qui invece laude ablativo e poi predicato verbale quindi chiediamo perdono con le lacrime e con la lode litamus soffriamo agli dèi sacrifichiamo agli dèi sottinteso agli dèi ma litamus vuol dire già sacrificare agli dèi in quanto per quanto e qui direi che è una subordinata limitativa il pianto permette che cosa che le parole corrano anche questa è una perifrasi vuol dire nella misura in cui il pianto ci permette di parlare a questo punto c'è una preghiera diretta a Roma che viene personificata exaudi regina tui pulcheri mamundi inter sidereos Roma recepta polos exaudi genitrix ominum e genitrix deorum non procula cielo per tua templa sumus exaudi esaudiscici origina bellissima del tuo mondo ricetta accolta o Roma accolta inter polos sidereos accolta tra gli spazi siderali esaudisci o madre degli uomini e madre degli dèi noi siamo per tua templa attraverso i tuoi templi non lontano dal cielo templi è anche qui una metafora e tutta la terra di Roma e dell'impero viene assimilata all'immagine del tempio te canimus semper que sine dum fat canemus sempre noi cantiamo te e canteremo quindi principale coordinata poi c'è una temporale finché i fatti ce lo permetteranno sospes nemopotesi membro essertui nessun uomo felice può essere in memoria di te nessun uomo può dimenticarti obruerint cizio scelerata oblivia solemn quam tu sex nostro corte receda tonos questo bruerint direi che potrebbe essere un perfetto concessivo non di una subordinata concessiva di una principale concessiva che vuol dire un'altra cosa scelerata oblivia le scelerate dimenticanze abbiano pure dimenticato più facilmente il sole che il tuo onore la tua grandezza receda si allontani dal nostro cuore e quindi qui abbiamo una comparativa nam solis radis e qualia munera tendis qua circonfusos fructuat oceanus nam infatti tendis offri munera dunque uguali doni doni uguali ai raggi del sole qua attraverso dove è un avverbio di moto per luogo l'oceano circonfusos fructuat l'oceano cinto e mosso ma circonfusus ha anche il significato di che cinge che cinge le terre attraverso dove l'oceano che cinge le terre fluttua e mosso o si muove attenzione a quest'ultima riga io sono andato a cercare le varie possibilità che sono state tramandate dai codici io poi offrirò una traduzione vedete voi se volete accoglierlo o no qui abbiamo febus che per antonomasia è il sole volvitur ipse tibi qui continet omnia febus eque tuis ortos in tua condite equos ipse febo lo stesso febo qui continet omnia che avvolge ogni cosa volvitur volvitur è un passivo mediale con valore intransitivo si muove per te vantaggio attenzione all'ultima all'ultimo verso egualmente ortus io do il significato di ortus sorto c'è solamente tuis secondo me è sottointeso terris per le tue terre condit nasconde equos i cavalli quando evidentemente declina il sole in tua maria qui secondo me è sottointeso mare nei tuoi mari è evidente che qui c'è una lunga perifrasi per chi avrebbe potuto semplicemente scrivere il sole che si alza che nasce e che declina ogni giorno per illuminare le tue terre abbiamo finito attenzione però se noi ci fermiamo esclusivamente la traduzione noi facciamo qualcosa di puramente sclerotico qui io ho appena accennato ad alcuni argomenti che sono di altre discipline ma che in una prospettiva di crescita umana sono coinvolte da questa traduzione quindi sarebbe una cosa veramente triste che l'insegnante che l'insegnante si limitasse a pretendere una traduzione di latino senza coinvolgere gli altri elementi che sono fondanti e sono assolutamente costitutivi di questa riflessione provate provate a svilupparli io ho appena li ho appena accennati li ho appena così toccati ma aprono ad una riflessione molto molto più complessa